E' stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Scalea e di Rende Francesco Rovito, 37 anni, amministratore unico e legale rappresentante dell'Alto Tirreno Cosentino S.P.A., la società che gestisce dal 2002 il servizio di raccolta e conferimento rifiuti per diversi comuni della costa altotirrenica. L'accusa è di condotte illecite nelle modalità di smaltimento dei rifiuti e nella conduzione delle stazioni di trasferimento nei comuni di Tortora e Scalea, oltre all'uso di un'area a cielo aperto in località Piano delle Rose a Santa Domenica Talao senza autorizzazione. A Tortora la società di Rovito pare scaricasse rifiuti indifferenziati di vario genere, tra cui batterie al piombo, lastre di cemento e amianto e pneumatici, in area sottoposta a vincolo sismico, idrogeologico, archeologico e ambientale. A Scalea le zone interessate sono località Pantano e Piano dell'Acqua dove sorgeva la discarica. Qui, oltre che in violazione delle norme antincendie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, la stazione di trasferenza regolarmente autorizzata funzionava in assenza di sistemi di raccolta delle acque piovane e del percolato. Ecco giustificato il cattivo odore più volte lamentato dagli abitanti della zona a confine con il comune di Santa Domenica Talao. Le indagini condotte dai militari della stazione di Scalea, dalla polizia provinciale di Cosenza e dalla polizia locale di Tortora si sono svolte dal luglio 2010 al marzo 2011. In quello stesso periodo l'ATC aveva ricevuto dalla magistratura di Paola e dal commissario straordinario per l'emergenza rifiuti l'obbligo di provvedere alla messa a norma delle stazioni di trasferenza sequestrate precedentemente. L'ex presidente dell'US Scalea, già consigliere comunale di Cosenza, si trova ora nel carcere della città dei Bruzzi. Tutti i terreni saranno bonificati da parte dell'Arpagal.